Dopo l'accordo raggiunto in Qatar con i talebani sul processo di pacificazione dell'Afghanistan, gli Stati Uniti si appresterebbero ad annunciare ufficialmente il ritiro di almeno metà contingente dal paese asiatico, iniziando così il disimpegno dalla più lunga guerra all'estero della loro storia. È vero che il ritiro dall'Afghanistan è uno dei pallini di Donald Trump, ma perché per farlo è necessario accordarsi con i talebani, ovvero i terroristi che Washington combatte da 18 anni. Gli americani ritengono in questo momento opportuno un accordo con i talebani per un motivo molto semplice e chiaro. Probabilmente si preparano a stringere la morsa nei confronti dell'Iran. Quindi è evidente che gli Stati Uniti stanno facendo una scelta e la scelta è venire a patti anche con i loro peggiori nemici pur di avere le retrovie sicure nel momento in cui decidessero di scatenare un attacco contro Teheran. È stata raggiunta in intesa di massima, ma per avere una tregua bisognerà mettersi d'accordo sul ritiro degli americani. E questo è molto più complicato di quanto lo presentino i giornali oggi. Intanto è polemica nel governo italiano dopo l'annuncio del Ministero della Difesa via i 900 militari italiani dell'Afghanistan. Lega e Ministero degli Esteri affermano di non essere stati informati. Ma al netto delle polemiche è davvero finita la missione italiana nel paese asiatico che ci è costata almeno 6 miliardi di euro e soprattutto 54 morti. Forse è il momento di portarli a casa, forse è il momento anche per noi di decidere che cosa fare, forse di usare quei 900 uomini per rimettere le cose a posto nel nostro confine meridionale, quello del Mar Mediterraneo, quella della costa libica che è diventata una sorta di tortuga dove i trafficanti di uomini fanno quello che vogliono. Ricordiamoci che guidiamo ancora con la missione europea Sofia che al secondo punto della sua mandato implica anche il fatto che le truppe europee e italiane vadano sulla sponda libica e si occupano della caccia ai trafficanti di uomini. Forse questi soldati possono oggi servire a questo, dipende da noi decidere o meno di farlo. abbiamo due alternative, o lo facciamo direttamente noi europei e italiani oppure troviamo qualcuno che lo faccia al posto nostro.